Creare l'ipotesi giallo-verde che Conte si accordava segretamente con Sabine è una bella fantasiosa ricostruzione. Se lei la smettisce è perfetto perché almeno è una cosa chiara. Ma come lo smettiamo? L'ho spentita 3, 4, 5, 6 volte. E l'ottava volta che la smettisce. Io voglio solo capire se ho capito bene. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che verrà rieletto alla grande come presidente del Movimento 5 Stelle sarà un movimento che si collocherà nel fronte di centro-sinistra progressista. Nel fronte progressista. E comunque non si allera più con la destra. Guardi, la nostra carta dei precedenti valori, giustizia sociale, mi sembra che sia a molta distanza. Le sembra o è perché o è con il centro-sinistra o può stare anche con il centro-destra. Saremo la forza attraenante propulsiva del fronte di centro-sinistra, ritornando alla categoria della fiducia nei confronti del PD. Attenzione, la categoria della fiducia è un discorso personale. Non funziona bene tra forze politiche, funziona tra le persone. Certo che mi fido di Enrico Letta. Però il dialogo con il PD è un dialogo da declinare nel segno della chiarezza, della reciproca autonomia e riconoscimento. Va bene. E lei si fida di lei. Sì, sì. Così ha detto. Ha dichiarato anche. Va bene. Ho una domanda importantissima. Ho una domanda importantissima perché...